Un nuovo ordine del giorno è stato proposto da Salvatore Caiata, appartenente al gruppo di Fratelli d'Italia, che sarà votato nella giornata di oggi in aula. Secondo quanto emerso, il testo prevede alcune nuove regole riguardanti l'abbigliamento durante le attività parlamentari. L'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori dovranno valutare l'opportunità di disciplinare la formalità dell'esercizio del mandato dei deputati e dell'accesso delle persone alle sedi della Camera attraverso un assetto normativo. Le nuove norme prevedrebbero il divieto assoluto per chiunque, sia parlamentari, collaboratori, dipendenti o visitatori, di indossare scarpe da ginnastica quando si accede alle sedi della Camera. Inoltre, si propone l'obbligo per i deputati, collaboratori, dipendenti e visitatori di sesso maschile di indossare sempre la cravatta. Questa proposta sta facendo molto discutere. Molte persone, infatti, sottolineano che, in questo momento storico, la classe dirigente dovrebbe occuparsi di altre questioni ben più importanti. In ogni caso, vedremo come andrà a finire e se la maggioranza sarà d'accordo. E tu, cosa ne pensi? Iscriviti al canale!